Brutta sorpresa per i residenti di Via Giorgi e Via Chiasso a Sant'Anna. Durante le verifiche degli impianti di illuminazione pubblica, infatti, dallo stradario del comune risulterebbe che le due strade sarebbero di viabilità privata e quindi la società Gesam Energia ha previsto la soppressione dei lampioni entro la fine del mese prossimo. Brutto pesce d'aprile per gli abitanti, che da sempre hanno considerato le due strade come comunali a tutti gli effetti. Io è dal 71 che abito qui. Questa strada qui è stata resa pubblica perché è stata asfaltata, ci è stata messa la luce da parte del comune, le fognature e tutto quanto. Poi in certi momenti è venuto fuori che la strada non era pubblica ma era privata, cioè è veramente un controsenso. L'assessore Francesca Pierotti ha confermato che nelle carte di Palazzo Orsetti le due vie risultano private e che si sta attivando per capire se ne esista un'effettiva utilità pubblica. In quel caso è prevista una delibera che ne attesti il passaggio da viabilità privata a pubblica. Se ciò non dovesse avvenire però, i residenti hanno intenzione di chiamare in causa la procura. Ma se ci staccano lampioni poi noi provvederemo a fare eventualmente una denuncia alla procura della Repubblica perché mi sembra che sia almeno che si possa fare, perché ci sembra una cosa veramente ingiusta. Paghiamo le nostre tasse al Comune, paghiamo tutto. Non vedo perché a un certo punto deve essere venuto fuori questo problema.